Per quanto riguarda l'Ispettorato del Lavoro, così come avevo detto anche ai sindacati, dal mio punto di vista poteva essere un'opportunità se fosse ovviamente stato un percorso condiviso da tutti quelli che sono gli attori di questa situazione. Non si fanno i percorsi se ci sono necessità di ulteriori approfondimenti. Non avevamo fretta, l'ho detto all'inizio, lo ripeto, quindi si può tranquillamente affrontare il tema in altro momento perché quello che per me è importante è fare dei percorsi condivisi soprattutto con tutte le persone che poi lavorano in queste strutture e che devono essere rassicurate che le eventuali riforme sono riforme fatte non per depotenziare, ma invece per far lavorare meglio le persone. L'obiettivo c'è, c'è la riorganizzazione del Ministero del Lavoro che è entrata all'interno del DL sulla pubblica amministrazione. Abbiamo 90 giorni di tempo per ridisegnare l'assetto della gestione e dell'organizzazione del Ministero in chiave dipartimentale. Lo faremo cercando di efficientare tutti i processi e di dare la giusta collocazione e anche la giusta valorizzazione alle risorse umane del Ministero che sono di grande qualità.